Quando scorso anno Luca insieme con Sgarbi ci presentò quella che era un'intuizione come la chiamata Giovanni già poco fa, ovvero il fatto che il primo disegno riconosciuto di Leonardo affiduasse non una zona della Toscana ma la zona della cascata della Barba. Come diciamo, tutto appunto è partito da lì, rotto quel muro che ci impediva tanto a noi quanto forse agli studiosi di Leonardo di vedere un po' oltre, stanno venendo fuori man a mano suggestioni, intuizioni che appunto disegnano un quadro, diciamo, organico. Chi di voi domenica è venuto ad ascoltare la conferenza in Archivio di Stato che i due direttori di Terni e Riedi hanno tenuto insieme con Luca proprio, diciamo così, su un'altra tipologia di intuizione. ha potuto ascoltare come da lì si è partito e si sta realizzando un quadro che ci dice che la presenza di Leonardo in Umbria e nella Sabina, nella Valle Santa Reatina, probabilmente, insomma, oggi dobbiamo considerarla come qualcosa e dimostrare che ha delle basi abbastanza solide perché ci sono più, diciamo, elementi che compongono l'arte nell'artesca che sembrano essere testimoni del suo passaggio genico per cercare di far sì che quelle che adesso sono valutazioni che stanno in capo a competenze naturalmente di tipo storico-artistico possano diventare poi un elemento reale che possa valorizzare il suo territorio. Lo diceva Giovanni, noi abbiamo un territorio stupendo tra l'altro io al piano lo conoscivo bene al di là della mia esperienza temporale con il presidente della provincia perché è il mio lavoro. La storia sa che l'inizio della storia, l'inizio dell'avventura degli uffizi con l'intuizione che non fu mia ma fu mio figlio che mi piace pensare sia un giovane eternale che al tempo ha un'altra felice coincidenza come dicevo poi che frequentava la scuola media della Ricci. Questa coincidenza dell'inizio mi piace accordarla a questa coincidenza del percorso, non dico finale, ma del percorso risolutivo delle mie ricerche. essere qui oggi con il sindaco Duterni, con il presidente della provincia di Duterni e con il sindaco che mi piace pensare non solo di Aldiano ma anche rappresentativo di tutti gli altri borghi di questa terra che mi piace pensare e chiamarla un è meridionale. perché perché